e siamo rientrati in studio, uno studio che si è tinto di giallo, come vedete c'è una sagoma molto inquietante a terra e come in un romanzo che si rispetti di Agatha Christie anche noi abbiamo il nostro cast, il cast del giallo made in stato dell'arte. Comincio in studio con Sergio Ceccotti, il pittore del thriller, l'artista del noir. In collegamento da Fabriano c'è invece Emanuele Rossi che è un esperto, pensate, di cene con il delitto, ovviamente per gioco. In collegamento da Milano c'è Pina Bertoli che già conoscete e la nostra esperta di fiducia di libri, autrice del famoso blog Il Mestiere di Leggere. Collegato con noi sempre da Milano c'è Alessandro Riva che è un giornalista, un collega, critico d'arte, esperto, grande esperto anche di noir. Allora Emanuele comincerei con te, con le cene, con il delitto, ma prima guardate questo filmato. Ho appena incontrato il custode del palazzo, mi ha parlato di strane presenze, dice che si sente come osservato. Avete mai sentito parlare dell'eccidio dei chiavelli del 1435? È quello in cui in una sola giornata uccisero tutta la famiglia? Due di loro scamparono a quel massacro, almeno all'inizio. Vabbè ragazzi non vi incazzate, sono appena arrivato in via Cialdini, faccio io un sopralluogo veloce. A dopo. Emanuele, che cosa abbiamo visto? Tutto da tutte e tutti, abbiamo visto il trailer di dimensioni nascoste che è la nostra società. Noi ci occupiamo di cene con delitto, ci occupiamo di escape room e di urban game. Le cene con delitto sono, diciamo, il nostro cavallo di battaglia, sono dei eventi di intrattenimento evoluto e intelligente che vengono svolti all'insegna del giallo e del mistero. Derivano dalla tradizione dei murder party di origine anglosassone, poi però sono stati declinati in vari modi, insomma, nelle varie parti del mondo. E anche noi abbiamo trovato il nostro cenere e il nostro modo di fare cene con delitto. Come funziona una cena con il delitto? Allora, una cena con il delitto innanzitutto si svolge durante il tempo di una cena o durante il tempo di un pranzo. Sostanzialmente i giocatori sono dei commensali che si trovano a vivere una situazione crime, fondamentalmente. Quindi durante la cena o durante il pasto, insieme alle pietanze, vengono serviti anche degli indizi. Al termine della cena i giocatori avranno un vero e proprio dossier di un caso sul quale investigare, un modello, diciamo, Agatha Christie, un giallo deduttivo. Le nostre cene con delitto possono avere tantissime ambientazioni diverse e anche essere fatti con vari sottoceneri del giallo. Per esempio alcuni possono essere spy story, altri possono essere invece thriller veri e propri, magari alla caccia di un serial killer, o altri giallo deduttivo classico, modello Agatha Christie o giallo storico, tinte, diciamo, anche noir o gotiche in alcuni casi. Quali sono gli elementi di una cena con il delitto? Allora, gli elementi di una cena con il delitto sono innanzitutto i sospettati, quindi quel gruppo di persone ristretto tra le quali c'è l'assassino o ci sono gli assassini. Successivamente i vari indizi che vengono trovati, ho visto che in studio avete realizzato quasi una piccola scena del crimine, quindi sicuramente una scena del crimine dove andare a cercare degli indizi o delle prove. Ascoltare dei testimoni che possono raccontare appunto le storie del giallo. E poi ovviamente il limite è la fantasia, la costruzione del mistero, la costruzione degli enigmi, sono sostanzialmente tutti elementi che rendono il gioco molto interessante, molto coinvolgente e molto stimolante. Quanto è importante l'ambientazione per una cena con il delitto? Noi crediamo che sia fondamentale, io ritengo che l'ambientazione sia assolutamente fondamentale, perché in una cena con il delitto noi portiamo i giocatori all'interno di una storia, all'interno di un giallo. E quindi il fatto che l'ambientazione, soprattutto poi per quelle storiche, sia molto curata e riesce a dare un'immersività sicuramente molto maggiore al gioco. E quindi curare l'ambientazione, curare lo stile del sottocenere del giallo che si è scelto, sono degli elementi assolutamente fondamentali, che possono appunto aiutare la narrazione, aiutare le persone ad entrare all'interno della storia e sicuramente aumentare anche il divertimento e il coinvolgimento. Quanto costa una cena con il delitto? Il costo di una cena con il delitto dipende, nel senso dipende da che tipologia di cena con il delitto si fa, quante persone sono sostanzialmente coinvolte. Noi utilizziamo diversi metodi, o facciamo scene con il delitto convenzionate magari con dei locali, quindi le persone pagano la cena e un piccolo sovrapprezzo per il gioco, oppure, cosa che facciamo molto molto spesso, sono i team building aziendali, quindi portare le cene con il delitto all'interno appunto della formazione. Dimensioni nascoste è un rambo di azienda di un'azienda di formazione, noi siamo di base formatori e quindi utilizziamo molto il mistero, il noir, il gioco anche per appunto l'organizzazione di questi eventi di formazione. E non solo, perché poi le scene con il delitto vengono anche utilizzate per esempio per scoprire territori, per scoprire bellezze architettoniche, per costruire degli urban game, così si chiamano, quindi dei giochi all'interno della città, quindi alla scoperta delle bellezze culturali e architettoniche, ma anche enogastronomiche, dei territori attraverso che cosa? Attraverso il mistero, la città cambia, come in un romanzo di Dan Brown i giocatori giocano con la città, nell'ottica della playful city, scoprono sostanzialmente i misteri che si celano all'interno di magari una chiesa o una stella cittadina o un teatro particolarmente magari bello come quello che noi abbiamo nella nostra città e all'interno di questo gioco sostanzialmente scoprono il territorio e si divertono. Chi sono i vostri clienti? Di tutti i tipi, i clienti possono essere persone private che vogliono organizzare una cena con il delitto magari nella loro casa, con i loro amici, i loro familiari, oppure sono delle aziende che ci chiedono per esempio spesso cene con delitto invece dal vivo, dove sono proprio le persone che si calano all'interno di una storia e vivono un'esperienza diretta, diventano sostanzialmente, giocano dei personaggi e quindi sono molto proattivi. La cena con il delitto che facciamo a tavola è tendenzialmente sviluppa, diciamo, competenze di natura cognitiva, deduttiva, mentre quella dal vivo mette in campo proprio tutte le competenze della persona, quindi anche le capacità comunicative, le capacità intrapersonali sostanzialmente e poi chiaramente gli aspetti deduttivi per risolvere il giallo. Sergio, tu sei il pittore del noir, del thriller, adesso vedremo alcuni tuoi dipinti. A chi ti ispiri innanzitutto? Quali sono le tue fonti? Allora, prima di tutto questa etichetta mi è stata appiccicata addosso. Io sono un pittore della realtà contemporanea e purtroppo è la realtà contemporanea che è noir, la colpa non è mia. Se la realtà contemporanea fosse tutta rose e fiori, io farei rose e fiori. A che cosa mi ispiro? Mi ispiro ai film che ho visto nella mia adolescenza, che erano i film degli anni 50, degli anni 40 che erano venuti con ritardo in Italia, degli anni 50 e che per la maggior parte erano film noir e che risentivano, siccome i realizzatori per la maggior parte erano gente di origine tedesca, austriaca o tedesca, che erano scappati per via di Hitler e che l'America aveva accolto e gli aveva dato una fama e quindi questi film risentivano tutti dell'esperienza del cinema espressionista tedesco per i giochi delle luci e chiaroscuri, le inquadrature eccetera. La cosa curiosa è che il direttore della fotografia di molti di questi film di tedesco aveva ben poco perché si chiamava Nick Musuraka ed era di Riace, quindi molto lontano da Berlino. Poi mi sono ispirato anche ai fumetti, non tanto a quelli della mia infanzia, anche un po', sì, Mandrake questa roba, bisognerebbe dire Mandrake, ma tutti dicono Mandrake. Beh c'è sicuramente Diabolic. E poi successivamente, quando non ero già più bambino, ho cominciato a comprare gli album di Diabolic e il primo quadro di Diabolic che ho fatto risale nel 1968. Diabolic esisteva già da tempo, però i primi erano disegnati male e il personaggio era ancora non precisato, era un uomo crudele, un criminale eccetera, che non aveva ancora le regole che poi si è dato e soprattutto non c'erano ancora i bravi disegnatori, come Zanni Boni ed altri, che mi hanno ispirato. Adesso stiamo vedendo alcuni tuoi dipinti, ce ne vuoi raccontare qualcuno? Facciamo scegliere la nostra regia. Vediamo. Ecco, qui c'è un Mr. X. Questo è un signore che presumibilmente rientra a casa. Non sappiamo chi è, è un signor Y, credo che si chiami, eccetera, ma questa cosa è ispirata in realtà un pochino alla mia casa, che ha questo corridoio con delle vetrate di anni venti, cose di questo genere e quindi di per sé la fonte non avrebbe nulla di inquietante né di noir né di giallo, però così come l'ho inquadrato il risultato in realtà è proprio questo. Beh c'è tanta suspense, sta per accadere qualcosa probabilmente. Sta per accadere qualcosa, ma tutto dipende dall'organizzazione del quadro, da come il quadro è costruito. Vediamone un altro, regia, grazie. Eccoci qui, in una camera d'albergo probabilmente, in una camera da letto. Sì, questo l'ho chiamato Hotel Tropical, ed è un quadro che è del tutto fantastico, nel senso che io, ispirandomi sempre ai film hollywoodiani, stavolta non quelli in bianco e nero, ma quelli a colori, che si svolgono in luoghi esotici, ho fatto questa camera da letto con il ventilatore e fuori una palma a indicare che siamo nei tropici e ti ripeto, sembra vero, ma è tutto inventato. se non che poi mia figlia, che una volta che è stata nei tropici, ha detto che è capitato in una camera d'albergo che era proprio uguale a quella del quadro. Che cosa ti colpisce di Agata Cristi? Innanzitutto, è una tua fonte? Non tanto. Mi piace Agata Cristi. Penso che il suo mondo, no, lo penso io, è così. Il mondo di Agata Cristi non esiste più. Il romanzo poliziesco basato sulla identificazione del colpevole attraverso degli indizi è un po' obsoleto, secondo me. Allora, Kenneth Bragnag, nell'ultimo film, quello che si svolge a Venezia, ne ha fatto una specie di noir, stravolgendo, secondo me, lo spirito di Agata Cristi. Comunque è un film gradevole. La ragione per cui il mondo di Agata Cristi, della signora Marple, è obsoleto è nel fatto che nessuno ci ha pensato, non so se sia vero, ma che il colpevole a quel tempo veniva impiccato. È vero. Adesso, se si trova il colpevole, gli danno 15 anni, ne sconta 5, poi dopo 4 esce fuori per qualche bella ragione e quindi il suspense che porta all'identificazione del colpevole in mancanza di punizione, insomma, dove non c'è delitto, dove non c'è castigo, non c'è delitto. Hitchcock, come entra nella tua pittura? Moltissimo. Io ho visto tutti i film di Hitchcock, salvo di quelli muti ne avrò visti un paio. Qual è il tuo preferito? Il mio preferito, i miei preferiti sono due. Uno è ovviamente la finestra sul cortile, dico ovviamente perché nei miei film si vedono finestre, luci, cose, eccetera. e poi La donna che ho visto due volte, che è un film del tutto incoerente ma bellissimo, affascinante, pieno di cose che non si spiegano. Ma un film visionario e affascinante. Tu hai conosciuto anche dei grandi artisti, penso a Giorgio De Chirico. Che ricordo hai di lui? Beh, un ricordo molto simpatico. Perché De Chirico, quando lo si vedeva in televisione, brontolava sempre, protestava contro l'arte moderna, contro questo, contro quell'altro. Poi nella vita normale era un uomo spiritosissimo. E' venuta una volta alla mia mostra, dove è stato un'ora e non ha detto altro che battute. Anche sul povero Kokoschka. Ah, dunque, quando ha saputo... Un grande artista, espressionista. Sì, dunque, io sono stato allievo di Oscar Kokoschka, alla fine degli anni 50. E quando è uscito fuori dalle conversazioni con De Chirico, che ero stato allievo di Kokoschka, lui mi ha detto, sa che mi diceva Picasso. Quando ho sentito parlare di Kokoschka, credevo che fosse la cocaina in cecoslovacco. Questo è tipico di De Chirico, eh. Alessandro Riva, da Milano, che cosa ti ha colpito della ricerca di Sergio? Perché tu ti sei occupato molto di lui. Buonasera intanto. Ma, dunque, io ho amato molto e amo tuttora molto la pittura di Sergio Ceccotti. Sono felice, tra l'altro, di ritrovarlo qui perché non lo vedo da un po'. Che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito innanzitutto che Sergio Ceccotti è stato un grande anticipatore. Cioè, in anni in cui la pittura, l'arte, non la pittura, l'arte era concentrata su problemi di linguaggio, era diventata molto elitaria e molto esclusiva, cioè parlava solo agli addetti ai lavori. Sergio Ceccotti, con una storia molto internazionale, perché era stato a Parigi, appunto, e ci ha raccontato gli aneddoti stupendi che, insomma, io non ho sentito questi aneddoti, ma spesso amavo molto sentire raccontare le storie di quando era a Parigi giovane e portava veramente una ventata di freschezza in Italia e ha anticipato perché si è messo con i suoi quadri, lui raccontava delle storie. Prima Sergio ha detto, ha avuto un lapsus, ha detto nei miei film, perché si parlava di Hitchcock invece che nei miei quadri, e ho trovato geniale questa cosa perché i suoi quadri, è un lapsus certamente, ma i suoi quadri sono veramente dei tranche narrativi che possono essere davvero un racconto del quotidiano, un racconto letterario, un breve racconto proprio, un breve racconto aperto come tutti i noir poi, perché nei noir, nel giallo classico alla Gata Cristi, si arriva al colpevole, cioè c'è una struttura che è un giallo classico, ha una struttura che porta in qualche modo a un ordine, rassicura il lettore perché si arriva alla cattura del colpevole, invece il noir ha una struttura più aperta, non necessariamente si trova il colpevole, ma affonda nelle nostre anche paure. Affondando nelle nostre paure, in realtà ci libera in parte delle paure, cioè ci porta fuori la paura del mondo contemporaneo, che è un mondo caotico, che è un mondo dove il vicino di casa può rivelarsi un serial killer, facciamo un esempio, no? Allora, la paura dell'uomo contemporaneo è che in una vita molto caotica, senza più regole, valori stabiliti, possa in ogni momento succedere qualcosa di drammatico a sé, alla propria famiglia, ai propri cari. Ecco, l'arte migliore, quindi l'arte visiva, come nel caso di Sergio Ceccotti, ma anche l'arte come il cinema, la letteratura, in qualche modo porta fuori queste paure, le porta fuori facendoci anche scoprire, facendo scoprire qualcosa dell'umanità, cioè ci fa conoscere meglio l'umanità, attraverso il grimaldello del noir. E questo... Ci hai portato diversi dipinti, che adesso mostreremo al nostro pubblico, che riguardano il rapporto tra il noir e l'arte contemporanea, quindi artisti più giovani. Direi di partire da Iva Lulasci. Sì. Questo quadro, tra l'altro l'ho visto ieri, in una mostra che si è aperta ieri in triennale, che è sulla pittura italiana, mi ha colpito perché Iva Lulasci è una giovane artista italiana, insomma, di origine albanese, e che lavora sempre sulla sessualità, proprio sui problemi legati anche alla sessualità. In questo caso, era su 210 artisti invitati, era l'unica che mostrasse una scena del crimine. Questa è, credo, indubbiamente una scena del crimine e ci porta in maniera anche abbastanza traumatica, con una pittura molto raffinata, ci porta a quello che noi vediamo ogni giorno sui giornali. Noi siamo bombardati in continuazione da notizie spaventose. L'arte, appunto, ha il compito in qualche maniera di levare la morbosità, ma farci vedere anche con una estetica oppure con una trama narrativa quello che noi vediamo ogni giorno nel contemporaneo, quindi nella tragedia della vita contemporanea. In mostra alla triennale c'è anche Nicola Verlato. Sì, Nicola Verlato, che è un artista, un pittore bravissimo, di origine veneta, che sta a Roma. Ecco, Nicola Verlato ha fatto un ciclo, questo che vediamo è uno dei suoi quadri, proprio di quel ciclo, è un ciclo dedicato a Pasolini. Pasolini credo che sia uno dei grandi delitti che hanno colpito e continuano a colpire l'immaginario collettivo italiano e non solo, perché è stato un grande intellettuale contro il potere, che ha sempre rovesciato i luoghi comuni, scomodo sia a destra che a sinistra, scomodo per tutti, ma quindi proprio per questo amato trasversalmente, diciamo, dalla gente comune, benché un finissimo intellettuale, un grande regista, grande poeta, e però che muore tragicamente, muore tragicamente con una vicenda che apparentemente dal punto di vista giudiziario viene chiusa, perché a ucciderlo è stato Pino Pelosi, insomma il ragazzo di vita che lui aveva rimorchiato alla stazione Termini, però intorno vi alleggiano tutte una serie di davvero paure, che sono le nostre paure, dove il potere può arrivare a fare dei complotti per mettere a tacere una voce libera, e queste sono le paure che abbiamo sempre noi, di un potere onnipresente, con i servizi segreti, con la malavita che è intrecciata ai servizi segreti, che è la storia d'Italia poi, la storia d'Italia è una grande avventura anche tragica, purtroppo noi abbiamo il teatro nel nostro DNA, e quindi un teatro anche tragico. Nicola Verlato ha fatto di questo teatro come facevano ai tempi nelle palle d'altare gli autori cinquecenteschi, oppure come negli anni 30, la grande lezione della pittura politica e celebrativa, lui ha fatto di un martire, in qualche maniera ha fatto di Pasolini un martire, un martire laico, un martire intellettuale, un martire contro il potere, con delle pitture straordinarie. Una battuta, possiamo dire parlando di Banksy, che Banksy invece è un giallo vivente? Sì, Banksy è assolutamente un giallo vivente, non solo per il mistero della sua identità, che forse adesso si sarebbe rivelata, ma in realtà la gente non vuole scoprire la sua identità, perché non gli interessa il personaggio che c'è dietro a Banksy, ma gli interessa a Banksy il suo metodo, e Banksy da notare ha un metodo particolare, perché le sue mostre, lui le organizza, le sue azioni scusate, le organizza come vediamo nei film, come un gruppo criminale organizza un colpo in banca, esattamente con una meticolosità assoluta, portando proprio a facendo i sopralluoghi prima, studiando esattamente il luogo giusto, stando attenti alle telecamere di sorveglianza che non possano mai riprenderlo, cioè facendo proprio, costruendo tutte le sue azioni come un colpo in banca, mettiamo. Tra l'altro, cosa da sottolineare è che il primissimo nome di Banksy era Robin Banks, si è trovato degli studiosi che sono Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, da poco un'intervista di una gazzetta, insomma degli anni, degli primi anni 2000, in cui dicevano presentiamo questo giovane street art Robin Banks, dove c'era il nome di battesimo vero, del personale che sta dietro a Banksy. Era vero, ma il nome di battesimo sì, sicuramente. Esatto. I Banksy. Fina, adesso la parola a te. Parliamo di noir e libri, che cosa ci consigli? Io ho preparato una serie di libri, naturalmente, se parliamo di noir, comunque di thriller, il primo nome che viene in mente a tutti, ovviamente è Stephen King, perché sicuramente molti hanno letto i suoi Shining, trasposto poi anche cinematograficamente con l'interpretazione magistrale di Jack Nicholson o It, per non parlare del clown che ha, credo, terrorizzato generazioni di lettori. Oggi invece vi volevo suggerire questo romanzo, uno dei primi che ha scritto, che ha scritto, credo, all'inizio o a metà degli anni 70, che si chiama Le notti di Salem, quindi già nel titolo la citazione, diciamo, di Salem ci porta, insomma, verso territori legati un po' alle streghe, al mistero, a questi fatti. Questo romanzo, diciamo, è un classico per chi ama le storie di vampiri, quindi qui entriamo un po', diciamo, sconfiniamo anche un po' verso l'horror, quindi un romanzo molto carico di tensione che riprende un po' tutti quelli che sono i topoi classici del canone di questo genere, quindi una casa abbandonata, misteriosa, degli stranieri, dei forestieri che arrivano e la comprano per farne non si sa che cosa, che poi, guarda caso, si rivelano essere dei vampiri, delle morti misteriosi e un protagonista che in realtà è uno scrittore che torna in questo paesino del New England per scrivere un romanzo proprio su questa casa nella quale lui aveva anche vissuto durante la sua infanzia e nella quale aveva avuto un'esperienza non molto positiva, diciamo. Siamo adesso al re del thriller scandinavo, Joe Nesbo, la copertina numero 5 per la nostra regia. Sì, Joe Nesbo diciamo è proprio il re del thriller, rientra un po' in questa grande fioritura che c'è stata nell'ambito del noir che ha portato alla ribalta nomi e romanzi molto famosi che sono divenuti famosi giusto per citarne alcuni parliamo di Stig Larsson con il suo Uomini che odiano le donne piuttosto che Peter Hoy che aveva scritto Il senso di Smilla per la neve Camilla Lackberg Anne Olt insomma tanti nomi c'è stata una fioritura Joe Nesbo senz'altro è ritenuto uno degli autori più importanti di Crime Story e ha scritto diversi romanzi tra cui una serie in cui il protagonista è questo detective Harry Hall che viene chiamato a risolvere alcuni casi nel romanzo di cui vi ho suggerito la copertina L'uomo di neve si tratta di una storia in cui compare per la prima volta un serial killer nella città di Oslo quindi con tutta l'indagine che poi ne consegue e questo romanzo riprende un po' le caratteristiche del noir come dicevamo anche prima il noir al di là diciamo dell'indagine su quello che è il delitto o i delitti nel caso di un serial killer da risolvere ci presenta anche un'indagine molto diciamo attenta a livello psicologico sui protagonisti della vicenda così come anche allarga diciamo lo sguardo facendo un'indagine anche a livello sociale del tessuto sociale in cui il delitto matura grazie tornerai a trovarci per continuare a raccontarci questi thriller grazie a Pina Bertoli a Sergio Ceccotti ad Emanuele Rossi e ad Alessandro Riva grazie a tutti voi che ci avete scelto e seguito ancora una volta noi ci vediamo puntualmente giovedì prossimo sempre dalle 21.30 qui e solo qui sul 264 del Digitale Terrestre su Cusano Italia TV ricordatevi che tutte le nostre puntate le trovate sul nostro canale YouTube quello di Cusano Italia TV e adesso linea alla rete al nostro fantastico Parinzesto c'è il nostro late night show particolarmente effervescente con Simone Lemmo alla buon'ora invece con me se lo vorrete alla prossima musica Grazie a tutti.